Una volta un re che abitava in un castello aveva paura di uscire da lì, perché di fuori del castello c'erano tanti quadrati, rettangoli, spigoli, cerchi, pallini. Lui aveva paura dei spigoli perché lo pungevano, quindi stava sempre chiuso qui, chiuso, chiuso nel castello. Un giorno venì una frana che spaziofea tutto il castello e il re morì. E allora i rettangoli cominciarono a scavare, scavare e trovarono il re morto. Però nel regno c'erano anche cerchi, pallini, 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 prendero una foglia magica e svegliarono il re. Però il castello era collato. No, adesso mi sono aperto i libri. I pallini invece si costruirono il castello con i pallini. Si costruirono il castello e dopo il letto aveva fatto anche tutto di pallini perché era 200 milioni di miliardi.